Buongiorno da Cucina Bioevolutiva! Oggi prepariamo un'insalata invernale dedicata ai 5 colori della salute, giallo-arancio, bianco, rosso, verde e blu-viola. Insalate di questo tipo non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta quotidiana per garantire al nostro organismo ogni vitamina e sostanza antiossidante disponibile in modo naturale nei cibi. Vi ricordiamo di lavare le foglie intere e di asciugarle prima di tagliarle a pezzetti per evitare inutili dispersioni di vitamine e processi di ossidazione. Buona visione! Grazie a tutti!